La Sicilia e naturalmente Messina devono guardare all'enogastronomia e al turismo enogastronomico. C'è chi viene per gustare i prodotti tipici e sedersi ad un tavolo di ristorante e guida alla mano. In pratica un ristorante stellato, un ristorante citato, nelle più famose guide, un piccolo tesoro per la città da custodire gelosamente. Questo emerge da uno studio elaborato da un importante istituto bancario e presentato a Taormina durante la manifestazione di enogastronomia Taormina Gourmet. In forte crescita gli arrivi in Sicilia nel 2017 è più 10,1% di stranieri in cerca di qualità nell'offerta alberghiere e di ristorazione. Taormina ha avuto il maggiore incremento in crescite turisti enogastronomici che cercano nuove esperienze di gusto unite alla scoperta del territorio. Nel 2017 i turisti dell'enogastronomia sono aumentati del 30% rispetto al 21% del 2016. Un italiano su tre ha svolto un viaggio per motivi enogastronomici e spesso è venuto in Sicilia tedeschi e svizzeri più assidui, boom degli americani più 15% su 2016, molto rilevante il peso dell'agroalimentare siciliano sull'economia della regione, in particolare per quel che riguarda il comparto agricolo. La filiera agroalimentare occupa quasi il 10% della popolazione siciliana e il valore aggiunto dell'agricoltura costituisce il 9,8% del valore aggiunto nazionale nel settore.